Buongiorno dal Tg della Mobilità. Le altre notizie nella Metro B sono terminati, i lavori nella stazione di Castro Pretorio per sostituire gli ascensori e quattro scale mobili. Per la riapertura della stazione bisogna ora attendere i collaudi del Ministero delle Infrastrutture e le successive autorizzazioni per riattivare gli impianti. Tra Termini e Tiburtina è ancora in strada la navetta MB20 che ferma vicino alle stazioni Castro Pretorio e Policlinico, anche quest'ultima chiusa per lavori. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.